In attesa del rinnovo del contratto nazionale fermo al 2009 CGL CISL uniti per venire incontro a 220 lavoratori delle case di riposo grazie all'accordo raggiunto tra sindacati e azienda che gestisce le strutture. Un accordo definito innovativo a livello sia regionale che nazionale. L'azienda a fronte di un bilancio economico abbastanza positivo delle due case di riposo e che ha 220 lavoratori ha voluto dare un segnale insieme a noi che c'è bisogno di rinnovo contrattuale non solo sul versante normativo ma anche e soprattutto sul versante economico e quindi ci dà un acconto rispetto al futuro rinnovo contrattuale. 80 euro una tantum in busta paga come acconto in attesa dunque dell'adeguamento contrattuale e l'indennità a vacanze 10 euro ogni mese nel prossimo primo luglio. Un risultato politico importantissimo, pochi soldi per i lavoratori che attendono purtroppo dal 2009 questo rinnovo contrattuale però noi vogliamo che questa pratica veda come minimo un minimo di considerazione nel dibattito e di riconoscimento economico. Questo è un sollievo anche se non sicuramente di elevato importo ma comunque è un sollievo per tutti i lavoratori. In tempi di crisi si va un po' controcorrente? Assolutamente sì, siamo anche stati contenti di aver trovato davanti un'azienda che ha capito la difficoltà dei lavoratori che sono già soggetti a un contratto nazionale non particolarmente ricco per cui già il contratto non è particolarmente ricco in più si afferma da tantissimi anni questo è sicuramente una boccata d'ossigeno.